queste sono le mura di ponente unico testimone che ci rimane di quello che era il quartiere il fondaco dei genovesi nella città di malaga quartiere era il posto dove la comunità ligure aveva le sue case i magazzini forno chiesa bagni da dove facevano la strategia commerciale per sviluppare gli affari nel regno nasa rete di granada ecco possiamo anche dire quando è nato insomma il muro dei genovesi questo muro che oggi si trova in un parcheggio appunto il muro è stato costruito e garanti tutto il quartiere negli anni 30 massimo anni 40 del 300 e poi ovviamente purtroppo questa struttura si è andata modificando sfortunatamente sì dopo la conquista cristiana è diventato un quartiere cristiano che è andato avanti fino agli anni 40 del novecento quando è stato raso a suolo per unire il parco di malaga con la nameda e poi è stato riscoperto negli scavi per costruire questo parcheggio comunale nel 1987